Vorrei proporre una cosa diversa, una serie di brani che ritengo piuttosto attuali, non sono scritti da me ma sono scritti da una personalità della cultura molto molto conosciuta e se vorrete vi invito ad ascoltare. Che cosa possiamo fare per il mondo in cui viviamo? Molti uomini e molte donne vorrebbero rendersi utili al genere umano ma si sentono smarriti e il loro potere sembra infinitesimale. La disperazione li afferra, i più sensibili vivono dolorosamente questo senso di impotenza e sono più suscettibili alla rovina spirituale una volta persa la speranza. Finché pensiamo all'immediato futuro ciò che possiamo fare non è molto. Non possiamo distruggere lo strapotere dello Stato o della proprietà privata. Non possiamo qui e ora infondere nuova vita all'educazione. Anche se vediamo il male di tali questioni non siamo in grado di guarirlo rapidamente con i metodi noti della politica. Dobbiamo riconoscere che il mondo è governato con uno spirito sbagliato e che ciò non cambierà da un giorno all'altro. Le nostre aspettative non devono essere rivolte al domani ma al tempo in cui ciò che ora è creduto da pochi sarà la convinzione comune di molti. Se abbiamo coraggio e pazienza potremo pensare i pensieri e sentire la speranza da cui presto tardi gli uomini saranno ispirati e la stanchezza e lo scoraggiamento diventeranno energia ed ardore. Perciò la prima cosa da fare è chiarirci bene quale tipo di vita crediamo sia buona e quali cambiamenti desideriamo per il mondo. Se vogliamo portare nuova speranza al mondo non dovremmo temere l'impotenza e non dovremmo abbandonare il pensiero. Promuovere tutto ciò che è creativo e ridurre gli impulsi e desideri che orbitano intorno al possesso. Questo dovrebbe essere il principio supremo sia in politica che nella vita privata. L'indignazione è sottomissione dei nostri pensieri non delle nostre passioni. La libertà stoica in cui consiste la saggezza coincide con la sottomissione delle nostre passioni ma non dei nostri pensieri. dalla sottomissione delle passioni sgorga la virtù della rassegnazione. Dalla libertà dei pensieri scaturisce tutto il mondo dell'arte, della filosofia, quella visione della bellezza grazie alla quale infine riconquistiamo a metà il mondo riluttante. Ma la visione della bellezza è possibile solo a una contemplazione senza restrizioni, a pensieri non appesantiti dal carico di avidi desideri. e così la libertà può giungere soltanto a chi rinuncia a chiedere alla vita quei beni individuali che sono soggetti alle mutevolezze del tempo. E poi ancora, la politica è interessata alle mandrie piuttosto che alle persone e le passioni che sono importanti in politica sono dunque quelle in cui i vari membri di un determinato branco possono sentire allo stesso modo. Esiste l'individuo che non si conforma, l'individuo il quale nel senso etimologico è egregio, ossia al di fuori del gregge. Un gregge saggio dovrebbe imparare a tollerare l'eccentricità di coloro che si levano al di sopra della media e a trattare con ferocia minima coloro che cadono al di sotto di essa. Bertrand Russell, il credo dell'uomo libero. Il primo passo che ho letto è tratto da una conferenza pubblicata nel 1917 dove sono raccolte una serie di letture che Russell tenne tra il 1915 e il 1916 dove si condensa tutto il suo pensiero, tutta la sua risposta filosofica al problema della follia della grande guerra. La pubblicazione di questo volume costò al filosofo, che era anche matematico, la sospensione al Trinity College per attività pacifiste, una multa di 100 sterline che non pagò mai sostenendo di preferire il carcere. Il libro fu ritirato ma diverse copie andarono comunque vendute. In carcere venne rinchiuso per sei mesi nel 1918. L'accusa fu di aver danneggiato la politica estera inglese avendo esortato pubblicamente gli Stati Uniti a non entrare in guerra. Un abbraccio a tutti.